Simone Mi sono iscritto a questo corso perché negli ultimi due anni, per curiosità mia, cultura mia, ho visto molte cose e ho visto un webinar di Gabriele e Stefano e ho visto un'opportunità in questo corso In assoluto, dopo tutti i corsi che ho visto, questo è il più pratico, proprio veramente incredibile secondo me come dalle news che ti danno le informazioni e arrivi direttamente alla pratica Quella è la cosa che mi ha colpito molto Mi porto via tutta la parte di strategie di breve termine che mi mancava È stato veramente illuminante, devo dire, quello che ci hanno raccontato in questi due giorni È stata mantenuta alla grande, dovrei dire, sì Nel senso, i due giorni sono come gli hanno promessi, sono effettivamente così Assolutamente sì, ho pensato ai miei genitori, per esempio Ho detto, magari la prossima volta, sai, iscrivo loro e vengono loro Clamoroso Al prossima volta, sai, iscriviti al nostro canale